Bene, sono Carolina Paglia, partengo alla sezione di Bergamo, siamo stati coinvolti dal CPA di Bergamo, Bergamo 2, quindi Treviglio, in questo progetto che noi abbiamo ritenuto molto interessante. Spiego anche perché, perché il 2022 è l'anno internazionale della sostenibilità della montagna e per noi affiancare e portare questi ragazzi in un percorso sconosciuto e far fare delle esperienze, diciamo anche sensoriali, alle quali certo non erano abituati, ha rappresentato anche per noi una ricchezza. Io ho accompagnato questi ragazzi in questo percorso esplorativo e che ha permesso loro di davvero entrare in un ambiente sconosciuto. In modo particolare il bosco, per ragazzi del Senegal, ha rappresentato davvero una grande esperienza di silenzio, di ascolto dei suoni del bosco. Non solo questo, l'osservazione della natura, ma anche l'osservazione dell'uomo nell'ambiente. Quindi come l'uomo si è, diciamo, sistemato ed è riuscito ad avere un insediamento di equilibrio con l'ambiente, è stato davvero molto interessante. Quindi speriamo di continuare questo tipo di esperienza che non è solo un accompagnamento, ma un accompagnamento con uno scopo di osservazione e di rendere consapevoli queste persone delle valenze che il nostro territorio ci offre.